no lo devo registrare cos'è sta roba cos'è cane selvatico ti prego dimmi che lo vedi anche tu dove? ti prego dimmi che lo vedi anche tu dove sei? ti prego dimmi che lo vedi anche tu no non ci sono ancora ti prego lo vedi questo coso che svolazza allungato deve essere un cane selvatico aspetta dove cazzo è sto cane? vabbè poi lo vedi ok l'hai sbaggato per me non stava volando era la terra no per me nemmeno volava semplicemente era tutto allungato tutto stirato ma afferiché ora ricercato andiamo a uccidere i mafferi dov'è? andiamola a prendere è in città proprio andiamo dove vai dove? andiamo andiamo come fai se prego dove sono ricercati? della mappa ma li vedi con un pallino rosso come li vedi? si ho visto qualcuno cadere dalla chiesa ho fatto un livello 3 ma che diventa un player annonso non lo so fare qua veramente non volevo dirlo non per forza ma perchè tizio ricercato? perchè si metteva a ammazzare la gente vedo una freccia e indosso uno che è entrando nell'area dell'evento oh merda è iniziato una mischia ci sono tutti che si stanno uccidendo qua dietro sono joy14 i mafferi che uccidilo riuscisse a beccarlo penso che mi inquadrà facilmente perchè dov'è? eh dove sono io? perchè io penso che ti dia dai io ti chiamato sei nella linea di tiro no lo sto facendo a fette avremo carne di mafferi per cena si vai uccidilo magari ci danno la ricompensa ma io ho accorto ma poi adesso dovevo ricaricare cazzo non ho più minchia che cazzo c'è l'intraiatore? piglialo prendilo 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 è morto è morto piglia tutto dovevo prendere non trovo niente carne di rato talba ma va no ho sbagliato ahia ma è sparito il corpo del tizio perchè l'ha ucciso l'ufos perchè l'ha ucciso lui vabbè vabbè abbiamo capito che puoi fare il cazzaro quanto vuoi player non versione aggiornata via player non nuke ground nuke ground perfetto abbiamo il titolo per questo video vabbè vabbè ciao addio l'ha ucciso l'ucciso 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 l'ucciso